Buonasera, buonasera a tutti voi. Tra poco l'informazione di Teleionio è stato ritrovato il cadavere del 29enne scomparso da Marano Marchesato, coppia gay rifiutata da una casa vacanze a Ricadi, sentirete, festa dell'unità a Santa Caterina, soverato invece manifestazione di Forza Italia. Ci occuperemo poi di manifestazioni estive nel comprensorio a tra poco. Benvenuti all'informazione di Teleionio. È stato ritrovato morto il 29enne scomparso venerdì scorso da Marano Marchesato. Il giovane era uscito da casa a piedi e non aveva più fatto ritorno. A dare l'allarme erano stati i familiari non vedendolo rientrare. Ancora non sono chiari i motivi del suo decesso, ma secondo i primi riscontri si tratterebbe di un suicidio. Un grosso incendio è divampato ieri sera tra Monte Paone e Soverato. Le fiamme originate da Sterpaglie si sono estese anche a causa del forte vento. Sul posto i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della zona. In particolare in azione sul posto la squadra boschiva dei vigili del fuoco di Soverato e Chiaravalle. Secondo testimoni le fiamme hanno lambito la ferrovia e ci sarebbero stati problemi alla circolazione, in particolare allo svincolo di Soverato Nord, dove il traffico è stato interrotto da entrambe le direzioni. Rapina a San Nicola da Cris. Sentiamo il capitano Losciale. Un reatto grave per le modalità con cui lo stesso è avvenuto e in special modo perché ad avere un ruolo chiave nella vicenda è stato proprio il nipote della vittima. Così il capitano Mattia Ivano Losciale, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Serra San Bruno, ha commentato l'epilogo delle indagini sulla rapina che ha visto come vittima una pensionata di 78 anni di San Nicola da Cris. Un episodio bruttissimo che ha trovato, aggiunge Losciale, una prontissima ed efficacissima risposta da parte della magistratura e dell'arma dei Carabinieri, segno che le istituzioni sono sempre molto presenti su un territorio così difficile come questo. Un episodio che il capitano Losciale definisce bruttissimo ma che purtroppo non è un caso isolato. Purtroppo non mancano le situazioni nelle quali la rapina si trasforma in tragedia, come nel caso di Isabella Rasso, uccisa a San Calogero nella notte tra il 14 e il 15 luglio del 2011, o di Lucia Ioppolo soffocata a Soriano il 23 dicembre del 2013, o più recentemente di Giglio Palmo Ciancio, gettato in mare a Pizzo dopo aver subito un'aggressione a scopo di rapina. Ma la cronaca riporta anche altri casi di giovani che si accaniscono contro persone anziane che vivono da sole nel tentativo di portare via loro, anche con la forza, i pochi risparmi che tengono in casa. Vittime di questi odiosi reati sono state anche una donna di 76 anni di piani di acquaro, rapinata in casa in località Marzano, dopo essere stata immobilizzata il 4 novembre 2015, e Iolanda Santaguida, che a 98 anni, il 9 marzo del 2016, ha vissuto a Sant'Angelo di Gerocarne un'esperienza simile. Ma in precedenza anche a Nicotera e Ioppolo si erano verificati casi simili, che avevano suscitato grande impressione tra la popolazione. Quasi tutti gli autori di questi gesti sono stati assicurati alla giustizia. Una piantagione di più di 300 piante di marijuana è stata sequestrata in un terreno nel comune di Bianco. Le piante, in ottime condizioni vegetative ben nascoste all'interno di un fitto rovetto, in alcune parti alto più di 5 metri erano più di 300 e avevano un'altezza media superiore ai 2 metri e mezzo. Oltre allo stupefacente è stato sequestrato l'intero impianto di irrigazione a goccia, costituito da tubi in gomma PVC per un totale di circa 800 metri. Inoltre sono stati sequestrati gli attrezzi agricoli e i fertilizzanti utilizzati per la coltivazione. Le indagini sono in corso alla ricerca dei responsabili. A Davoli è stata svaliggiata una villetta Il Bottino e di 30 mila euro. Sentiamo. Topi d'appartamento in azione a Davoli Marina su Viale Kennedy, dove nella serata di giovedì scorso sono riusciti a depredare una villetta. Era da parecchio tempo ormai che non accadeva o perlomeno il fenomeno era stato arginato dai controlli dei carabinieri davolesi su tutto il territorio, in particolare nelle zone residenziali. Giovedì sera, con tutta calma, approfittando delle tenebre e dell'assenza dei proprietari, i gnoti sono dunque penetrati all'interno di una villetta di proprietà di un noto professionista davolese. Indisturbati, i ladri hanno potuto girovagare all'interno della villa e individuare la cassaforte nella quale erano custoditi diversi monili e altro. Una volta scassinata la cassaforte, probabilmente con un flessibile elettrico, ai malviventi non è rimasto altro da fare se non rastrellare il bottino e darsi alla fuga. Secondo una prima stima si pensa sia abbastanza ingente il malloppo, anche se per avere piena contezza del valore è stato necessario procedere ad un inventario. In ogni caso il colpo sarebbe stato grosso, probabilmente intorno ai 30.000 euro. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri di Davoli agli ordini del maresciallo Ugo Albanese che stanno seguendo diverse piste che potrebbero portarli molto vicino ai malviventi che hanno studiato bene il campo delle operazioni. Sicuramente infatti non ci si intrufola in un appartamento o una villa se non si conoscono le abitudini degli inquilini e soprattutto non si va a colpo sicuro con attrezzi specifici che hanno bisogno di corrente elettrica se non si conosce bene l'ambiente da visitare. In situazioni del genere inoltre diversi elementi possono giocare a sfavore dei delinquenti. Ad esempio il rientro improvviso di uno dei residenti, il destare sospetti in qualche vicino o addirittura, come successo a novembre dello scorso anno, trovare persino il proprietario dentro casa. Lavori abusivi nel Parco Nazionale della Spromonte. C'è stata una denuncia. Sentiamo. Un'operazione contro i lavori abusivi realizzati nel Parco Nazionale della Spromonte è stata portata a termine dal personale della stazione Carabinieri Forestali di Gambari ed Aspromonte. Una persona è stata deferita all'autorità giudiziaria, in particolare i militari della stazione Carabinieri Parco di Gambari ed Aspromonte, a seguito di accertamenti avviati nei giorni precedenti e sotto la supervisione del reparto. Il 18 luglio hanno posto sotto sequestro preventivo un'area di terreno di circa 15.000 metri quadrati, corrispondenti ad ettari 1,50, sulla quale insisteva un bosco di vino nero, facente parte di un più ampio contesto boschivo che è stato soppresso per far posto a colture agrarie di ortaggi e legumi, oltre che alla piantumazione di altre essenze arboree da frutto. Sulla stessa area sono state realizzate due baracche in legno da adibire a ricovero per attrezzi o animali, anche queste poste sotto sequestro. Il fatto si è verificato in la località Petrona, in agro del comune di Sinopoli, in area di proprietà privata che ricade all'interno del perimetro del Parco Nazionale dell'Aspromonte. Le indagini eseguite hanno permesso di individuare in una persona del posto, diversa dal proprietario del terreno, che a questa ha concesso lo stesso incomodato d'uso gratuito, l'esecutore materiale dei lavori che sono risultati abusivi perché realizzati in assenza di qualsivoglia autorizzazione. Pertanto si è proceduto al deferimento all'autorità giudiziaria competente del responsabile dell'abuso e al sequestro a suo carico dell'area interessata dai lavori e delle baracche al suo interno, consegnando il tutto in custodia giudiziale al proprietario del terreno, che è risultato estraneo ai fatti. Una coppia gay è stata rifiutata da una casa vacanze a Ricadi. Sentiamo i particolari. Non accettiamo gay e animali. E questo è il messaggio che due ragazzi di Napoli si sono visti recapitare dal titolare di una casa vacanze della frazione Santa Maria a Ricadi, nel Vibonese, non appena si è reso conto che i suoi ospiti erano due uomini. A denunciare l'episodio è stato l'arci gay di Napoli al quale i due giovani si sono rivolti per raccontare la loro storia. Quando ho letto questo messaggio mi è cascato un silos di acqua gelata addosso, ha detto Gennaro, uno dei due giovani all'arci gay. Nella mia mente si è materializzata l'immagine drammaticamente famosa dei cartelli nazisti esposti fuori dai negozi, con i quali si proibiva l'ingresso ai cani e agli ebrei. Ma da allora sono passati 70 anni e questa storia non può essere ignorata. Gennaro si è anche rivolto al linguista Massimo Arcangeli, che ha pubblicato la storia dei due ragazzi sulla sua pagina Facebook. Io e il mio compagno, ha riferito, eravamo alla ricerca di una struttura dove poter trascorrere alcuni giorni di vacanza a fine agosto. Dopo alcune ricerche abbiamo deciso di prenotare una guest house a Santa Maria, dove offrivano l'uso esclusivo di una dependance e di una piscina privata. Dopo regolare prenotazione online sulla piattaforma booking.com venerdì sera, siamo stati contattati tramite WhatsApp dal proprietario della struttura, che ha chiesto alcune informazioni aggiuntive. In particolare voleva sapere da dove venissimo e abbiamo approfittato per chiedergli delucidazioni in merito all'uso della casa e dei servizi offerti e alle modalità di pagamento. Dopo averci congedati, il proprietario ha però ritenuto opportuno fare una precisazione importante, in toni anche visibilmente imbarazzati. Non accettiamo gay e animali. Possibile, si chiede Gennaro, che in un momento storico nel quale ci si interroga politicamente sulla necessità di eguagliare le unioni incentrate sull'amore di qualsiasi genere, ci sia ancora chi con tanta leggerezza discrimini sulla base dell'orientamento sessuale. I soldi per l'affitto che io e il mio compagno gli avremmo dato non sarebbero stati uguali a quelli che avrebbe ricevuto da una qualsiasi coppia etero. Ti garantisco che non ci sono rimasto male per noi due. Nel mio cuore ho pensato alle ricadute pesantissime che un messaggio del genere avrebbe potuto avere sul ragazzo più giovane che fatica a riconoscersi, ad accettarsi o che è semplicemente più sensibile riguardo al proprio orientamento. Nessuno deve sentirsi inaccettato. Il Comitato Provinciale Arcighei di Napoli, dal canto suo, si dice indignato e disgustato da simile condotta, esprime profonda solidarietà a Gennaro e al suo compagno e chiede l'esclusione della casa vacanze dal sito www.booking.com e da tutti i siti di prenotazione turistica che non vogliano nel 2017 rinnovare logiche commerciali razziste e antidemocratiche. Ci auguriamo inoltre un intervento deciso da parte del Comune, della Regione Calabria e delle autorità predisposte alla vigilanza e al contrasto alle discriminazioni. A Santa Caterina, Festa dell'Unità. Vediamo il servizio. La nostra è una rivoluzione etica. Lottiamo quotidianamente contro le sacche di potere che vogliono impedire il cambiamento in Calabria. Lo ha affermato il Presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, chiudendo sabato scorso la Festa dell'Unità a Santa Caterina dello Ionio. Davanti al gremito anfiteatro della zona marina, Oliverio ha rivendicato fatti, opere e investimenti, citando un lungo elenco di progetti già cantierati e in particolare i 530 milioni di euro destinati alla riqualificazione integrale della ferrovia ionica. Sul tema delle infrastrutture ha parlato anche di trasversale delle serre e di statale 106. Anche la sanità ha occupato uno spazio rilevante, non mancando peraltro una certa preoccupazione per l'attuale gestione commissariale. L'ospedale di Soverato e la Casa della Salute di Chiaravalle, ha affermato Oliverio, sono priorità evidenti per questo territorio, su cui c'è il massimo impegno della Regione. Tra le questioni affrontate, il piano di recupero dei borghi e delle aree interne su cui il Governatore si è lungamente soffermato. Lo stesso Oliverio ha visitato nel pomeriggio il Centro Storico di Santa Caterina, soffermandosi sull'interessante modello di accoglienza per i rifugiati creato nella cittadina ionica. Il dibattito politico moderato dal giornalista Francesco Pungitore è stato animato dagli interventi di Maria Antonietta De Francesco, segretaria di circolo del PD di Santa Caterina, del sindaco Giuseppe Letto, del consigliere provinciale Francesco Severino, del deputato Bruno Censore e del responsabile organizzativo del PD calabrese Giovanni Puccio. Tra stand, degustazioni e musica, la festa ha coinvolto centinaia di partecipanti e in particolare tantissimi giovani, protagonisti di una macchina organizzativa praticamente perfetta. Un successo evidente, hanno rimarcato De Francesco e Severino. Il Centro Storico di Santa Caterina è bellissimo, un centro storico di grande valore, anche se ha subito negli anni Ottanta, a seguito di un incendio, un colpo duro, però si vede che c'è appunto un centro storico che esprime un'identità, una storia, una storia anche di fabbricati importanti, fabbricati nobiliari importanti. Il borgo, l'intero borgo è bellissimo. Noi abbiamo nel nostro programma quello di realizzare un recupero dei borghi, stiamo innanzitutto per approvare una legge sul recupero dei borghi, e pensiamo di destinare risorse importanti attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, perché i borghi costituiscono per la nostra regione un patrimonio inestimabile, disseminati sulla collina, sulla montagna, lungo le coste della nostra regione. Quello di Santa Caterina è un borgo che esprime fisicamente le potenzialità di questa importante risorsa. Dobbiamo valorizzare i borghi, non solo recuperarli dal punto di vista urbanistico, strutturale, ma anche ripopolarli, valorizzarli attraverso l'incentivazione di attività di recupero dei mestieri, di attività culturali, iniziative che devono tendere a fare dei borghi centri di valorizzazione turistica e anche di ospitalità. Ecco, due grandi temi. Tra l'altro vedo qui il sindaco di Chiaravalle, per cui il tema della sanità, insomma, voi lo avete affrontato insieme, in particolare quello della Casa della Salute. Questo è uno dei temi che volevo sottolinearle. E poi, ovviamente, quello della viabilità. Qui c'è uno dei tratti più pericolosi della 106. Nei giorni scorsi con il sindaco di Chiaravalle abbiamo fatto proprio un incontro sul problema della Casa Salute. Noi intendiamo accelerare, recuperare risorse importanti. Devo dire che quello di Chiaravalle è una delle prime strutture che sarà realizzate. Abbiamo fatto un punto con il sindaco, con il dipartimento, con il dottore Fatarella, con le strutture del Dipartimento Salute della Regione per verificare lo stato dell'arte della iniziativa. Credo che adesso è avanzata la procedura. si tratterà di dare lo sprint finale per finalmente dare il via a questa importante struttura. Noi siamo in una zona importante, la zona ionica, che nella difficoltà che ha vissuto per decenni la nostra Regione è quella che è stata più penalizzata, sostanzialmente, perché è priva di collegamenti adeguati dal punto di vista viario, ma anche dal punto di vista ferroviario. Noi abbiamo investito molto per rompere questo isolamento. Non è un caso che abbiamo posto al centro del nostro programma quello del recupero della ferrovia ionica. si è dato inizio proprio nei giorni scorsi ai lavori nel tratto che va da Catanzaro Lido a nord e il prossimo anno cominceranno i lavori da Catanzaro Lido verso Roccella Ionica, a sud, quindi questo tratto. Anche per quanto riguarda la 106 ionica noi abbiamo programmato risorse importanti. Proprio l'altro ieri al Senato è stato recuperato su nostra proposta un emendamento presentato d'accordo con noi dal Senatore Naccarato che recupera 735 milioni di euro per la nostra Regione che noi pensiamo di utilizzare in primo luogo prioritariamente in direzione della strada ionica della SS 106 ionica perché appunto, come dicevo prima, quest'area ionica della Calabria deve essere aiutata ad uscire dalla perifericità e dall'isolamento. Certo, è un grande successo. Sono oltre 25 anni che non facciamo la festa di un'età. Grazie a questi nuovi giovani, a Domenico Carioti che è qui con me e alla segretaria e a tutti gli altri che hanno fatto un bel lavoro. Loro hanno fatto un lavoro di coordinamento ma splendido. È una giornata bellissima, una sera bellissima. Abbiamo il nostro governatore della Calabria questa sera che non è una cosa da niente. Abbiamo parlato di problemi di Santa Caterina, del centro storico e della frazione marina, della costa e dello sviluppo del territorio. Una bella iniziativa. Sono molto soddisfatto in qualità di Cicci Severino e come consigliere provinciale della provincia di Catanzaro. Sì, come no. La cosa che mi rende più felice stasera è proprio il fatto che in questi giovani si vede proprio lo slancio verso la politica che ultimamente si sta un po' perdendo. Questa manifestazione, questa iniziativa al di là della festa dell'unità è un momento di aggregazione che praticamente ci fa ben sperare in quella che è una buona politica e una politica sana, una politica a favore del territorio. Cariotti, una bella festa. Una bellissima festa e c'è stata infatti la risposta della cittadinanza che ci inorgoglisce. A me è uno stimolo in più per andare avanti perché in questo gruppo comunque ci troviamo molto bene. Siamo giovani, c'è sinergia ed è nuova, vorremmo metterla in campo. Certo, con esperienza, supportati comunque da coloro che nel corso degli anni hanno comunque sempre scritto la storia di Santa Caterina. Ci fermiamo per qualche istante, a tra poco. A Soverato manifestazione di Forza Italia, una raccolta di firme per dire no alle politiche del governo sull'immigrazione. Vediamo. No all'apertura degli hotspot in Calabria, no alle politiche del governo sull'immigrazione. Raccolta firme di Forza Italia sul lungomare di Soverato. Sì, oggi Forza Italia e Forza Italia Giovani sono presenti in decine e decine di piazze nella nostra regione per dire no a una politica dell'immigrazione del governo Renzi, del governo Gentiloni, preceduta dal governo Renzi che ha portato una svendita dalla nostra regione con il ministro Meniti che vuole portare più del 50% degli immigrati che arrivano in Italia nella nostra regione Calabria contro i hotspot di Corigliano, Reggio Calabria e Crotone. Ciò non può andare avanti più perché non dobbiamo ritornare a una politica di immigrazione fatta come precedentemente dal governo Berlusconi che garantisca sicurezza a tutti quanti i cittadini. La risposta della cittadinanza? In questi giorni stiamo girando tutta quanta la provincia e i riscontri sono più che positivi. Molti cittadini stanno venendo a firmare appunto per dire no a questa politica di immigrazione e quindi si spera che possa essere un risultato positivo per la nostra città ma soprattutto per la nostra regione. Sì, è un tema molto sentito dalla politica ma fortemente dai cittadini perché purtroppo i flussi migratori sono sempre più numerosi e quindi creano una serie di problemi nelle comunità locali ma anche per quanto riguarda la stessa gestione delle presenze. L'ultimo provvedimento del governo di istituire gli hotspot tra cui tra in Calabria è chiaro che crea una serie di problematiche sia di natura igienico-sanitaria perché saranno ospitate all'interno di Tendopoli e sia per quanto riguarda l'ordine pubblico. In questo senso noi abbiamo voluto mettere in campo un'azione forte attraverso la sottoscrizione di una petizione popolare per bloccare questo tipo di scelta e invertire la politica che attualmente si può portare avanti attraverso questo flusso migratorio indiscriminato. Bisogna bloccare il flusso migratorio lì dove ci sono i momenti di tensione e anche i momenti di organizzazione di questi flussi per non consentire a queste persone di poter venire indiscriminatamente in Europa ma al 90% vengono tutti in Italia. Quindi le posizioni anche espresse ieri dai vari governi nazionali tra cui l'Austria e la Romania dimostrano che l'Italia su questo problema rimane fortemente isolata in Europa e si deve subbarcare tutta quella che è l'organizzazione ma anche una grande parte della spesa che purtroppo viene indirizzata verso i centri di accoglienza. Io penso che oggi c'è la necessità che il governo nazionale cambi strategia e consenta realmente non a parole per come ha detto il ministro Minniti in questi giorni che consenta di poter bloccare questi flussi attraverso la creazione di momenti di accoglienza sulle coste libiche e sulle coste africane in maniera tale che non ci sia la possibilità che questi possano prendere le navi e poi arrivare nel Mediterraneo e quindi in Italia. Quindi Forza Italia è fortemente impegnata su questa battaglia noi chiediamo che siano bloccati i flussi ma nello stesso tempo vengono ridimensionati e chiusi quei centri che oggi purtroppo non danno la possibilità di avere un'accoglienza tipo umanitaria perché sono troppo le persone presenti all'interno dei centri e non sono facilmente gestibili. A Montepaone la minoranza vuole le dimissioni sentiamo Duro il jaccus della minoranza che punta il dito sugli errori procedurali commessi dagli amministratori montepaonesi chiedendo le dimissioni della giunta e l'attenzione del prefetto nei confronti di un'amministrazione su cui era già stato chiamato ad intervenire L'amministrazione che ha operato all'insegna dei proclami commenta Saverio Candelieri si trova ad avere una macchina amministrativa bloccata La nostra azione difende il ruolo del Consiglio Comunale e dell'opposizione contro chi opera con scarsa trasparenza e irregolarità Tutto nel silenzio assenso non solo dell'assessore al bilancio ma di tutti i consiglieri di maggioranza che all'unanimità hanno votato no alla nostra richiesta di differimento del Consiglio Non è il primo errore commesso Nella 2016 avevamo denunciato una triplice produzione del bilancio con tre copie diverse tra quella approvata dalla Giunta Comunale quella pubblicata nell'albo pretorio e quella che veniva portata all'approvazione del Consiglio In quel caso la maggioranza sospese la seduta e il prefetto concesse ulteriore tempo per l'approvazione Il secondo episodio si lega all'approvazione del rendiconto per cui avevamo presentato due esposti alla Corte dei Conti per evidenziare l'inesattezza di alcuni dati che poi una nota dell'amministrazione tentò di giustificare come inspiegabili malfunzionamenti del software Nel 2017 registriamo ancora un errore posto con arroganza che ha prodotto un'altra delle tante incompiute e accanto al lungomare e all'ecomuseo rimane incompleto anche il bilancio Chiediamo di essere ascoltati dal prefetto che ha già censurato condotte dell'amministrazione ed è dovuto intervenire per ristabilire delle regole Non resta che chiedere alla Giunta di rassegnare le dimissioni per garantire a Montepaone un governo rispettoso delle regole e delle istituzioni A Guardavalle Forza Italia boccia l'operato del comune Sentiamo Il club di Forza Italia di Guardavalle fa una valutazione critica sull'operato dell'attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Ussia e lo fa con un manifesto pubblico nel quale evidenzia ritardi e lungaggini su pratiche relative al piano strutturale associato al sottopasso al piano di protezione civile al recupero del centro storico e sulla viabilità interna Secondo il club Forzista l'amministrazione sarebbe lontana dalle reali esigenze del territorio ma prossima a svelare il suo completo fallimento politico e amministrativo Il club sottolinea come sia un'amministrazione dalle tante incompiute dalle troppe decisioni improvvisate incapace di andare oltre una minima sindacale gestione dei servizi e al completamento delle opere lasciate in eredità dalla precedente compagine come Piazza Carmine nel Borgo e campetti sportivi sulla fascia mare il club evidenzia ancora che non si può solo con l'inaugurazione di Piazza Carmine e con la messa in gara del teatro Parco del Sole dimostrare capacità amministrativa L'invito che il club Forzista fa è quindi quello di adoperarsi per eliminare il problema delle condutture in amianto mentre nella prossima tornata elettorale annuncia una profonda riflessione sui comportamenti che hanno impedito una collaborazione istituzionale che avrebbe potuto porre le basi per una ripresa economica e sociale ci occupiamo ora di Armonie d'Arte Festival abbiamo l'onore di avere qui in Calabria Catanzaro Alessandro Preziosi voce narrante dello spettacolo dedicato alla grande mistica di Paravati Natuzza Evolo per lui è un incontro importante quello con una figura così particolare Beh queste circostanze sono di fondamentale importanza nella carriera di un professionista quale mi ritengo ma soprattutto nel percorso di una vita dove approfondire un tesoro di così grande spiritualità quale è quello rappresentato da Fortunata Natuzza è una possibilità che viene offerta a me e allo spettatore attraverso non tanto l'approfondimento quanto il confezionamento di uno spettacolo che ha comunque la forza dell'essere una forma di intrattenimento prima di tutto nella speranza che poi le parole cantate le parole recitate la musica possano in qualche modo non solo evocare la figura di una personalità così importante nella comunità calabrese quanto anche quello di in qualche modo attraverso il contesto del sito archeologico in cui questo spettacolo viene realizzato un insieme così di bellezza che comunque fa bene all'anima beh assolutamente la la possibilità di far conoscere alla gente del posto e anche a me che sono campano luoghi di impatto dal punto di vista sia storico che dal punto di vista visivo umano è un privilegio io spero che le comunità circostanti la gente di Caranzaro tutti possano così scoprire anche in formula familiare quello che è loro e appartiene a loro e hanno il dovere di conservare come loro questo credo che sia il messaggio più importante da far passare cioè chi gestisce i beni culturali mette a disposizione di una comunità un luogo questo luogo viene visitato e quindi impone alla società locale di conservarlo e di mantenerlo intatto per i prossimi mille anni Armonia d'Arte che si muove sempre nel solco dell'impegno etico oltre che a favore dell'arte sentiva il bisogno di raccontare la vita e il messaggio di Natuzza Evola la mistica di Paravati lo facciamo attraverso la musica di Vincenzo Palermo uno straordinario compositore italiano tra i più interessanti del Parlamento Europeo stesso di riferimento e di sua eccellenza il Vescovo di Mileto Luigi Renzo ma lo facciamo soprattutto nel segno di Natuzza perché pensiamo che un personaggio di questa portata della Calabria non potrà che portare bene a tutti noi ci rivolgiamo quindi agli amanti dell'arte ma anche a tutti i devoti di chi ha fede perché sappiamo che tanti papi che si sono succeduti negli ultimi decenni sempre hanno detto che attraverso l'arte si ascolta la voce di Dio quindi vi aspettiamo tutti domani sera 25 luglio martedì alle ore 22 al Parco archeologico Scolacium sarà un grande momento di comunione Bregovic al Politeama di Catanzaro vediamo è stata una vera festa in musica quella ritmata e travolgente di Bregovic che ha entusiasmato anche il Politeama di Catanzaro dopo aver infiammato il pubblico di tutto il mondo il suo tour internazionale è stato il terzo appuntamento del festival d'autunno e l'artista bosniaco è arrivato per quest'unica tappa calabrese accompagnato dalla sua tradizionale wedding and funeral band una formazione che assieme alle due coriste bulgare diventa protagonista sul palcoscenico coinvolgendo ogni singolo spettatore un artista che ha fatto amare la musica tradizionale del suo paese fuori dai confini nazionali e le motivazioni le spiega lui stesso sì perché la nostra civilizzazione è la civilizzazione delle migrate se non in storia se italiani non ci muovevano se non so tedeschi non ci muovevano se arabi non ci muovevano noi saremo ancora sugli alberi mangiando le banane allora è una cosa antistorica loro portano qualcosa per noi penso e ora andiamo a Davoli il comitato festa di San Vittore e la misericordia hanno voluto ringraziare tutti quelli che hanno collaborato per la riuscita della festa del patrono San Vittore ma non sono mancate le polemiche sentiamo le interviste un bilancio sicuramente positivo perché è venuta fuori una bella festa partecipata organizzata bene io voglio dire un grazie oltre che a Don Nicola che si sta impegnando per Davoli per questa festa un grazie particolare al comitato che quest'anno si è costituito il comitato San Vittore e misericordia perché veramente ha elevato il tasso di bellezza di questa festa io qualcuno ha avuto per l'intervista che io vi ho rilasciato giorno 8 alla festa che abbiamo fatto in piazza aspettando San Vittore ha avuto qualche mal di pancia però non motivato non motivato perché quello che io ho detto lo riconfermo noi ci siamo insediati nel 2015 e la festa era sparita poi certo è stato un piccolo passo quello l'amministrazione insieme a Don Nicola voler riprendere un attimino c'è stato un primo contributo che poi l'abbiamo fatto seguire negli anni con quel piccolo contributo e con l'organizzare una serata che noi insieme a Don Nicola abbiamo organizzato proprio perché non avevamo soldi con la partecipazione di ragazzi di davoli di ragazzini che hanno fatto una serata così per agliattare alla serata si è partito da lì si è partito e si è arrivato a distanza di due anni tre anni ad avere una festa con un comitato del quale io mi sento parte non come sindaco ma mi sento parte come cittadino e abbiamo portato hanno portato perché poi sono stati loro che hanno preso in mano la festa l'hanno portato a un livello veramente eccellente io mi auguro ecco che questa concordia che è nata qui a Davoli questo intreccio diciamo tra Davoli superiore e Davoli marina perché come noi diciamo sempre il paese è uno ha dato frutti veramente positivi e isperati forse due anni fa di questo dobbiamo essere tutti orgogliosi poi la polemica è facile farla la critica è facile farla però io apprezzo chi come questa gente del comitato quest'anno si è tirata sulle maniche ha lavorato per Davoli ha realizzato qualcosa per Davoli poi dire si poteva fare così questo lo lasciamo a chi è abituato giorno dopo giorno solo a criticare e non valutare il bene del paese comunque abbiamo detto che una Davola unita per le feste di Davoli non c'entra un'amministrazione comunale comitati la gente di Davoli insieme con tutti per far diventare ancora di più grande Davoli sindaco questo è fondamentale io lo dico da sempre che Davoli il paese è unico le feste non sono né di Davoli superiore né di Davoli marina la festa è di Davoli a tutti i livelli noi dobbiamo avere la capacità di partecipare sia a Davoli borgo sia a Davoli marina proprio in un connubio di crescita per il paese perché solo se uniamo le forze e non le dividiamo noi possiamo mettere in campo e realizzare progetti seri e buoni per Davoli diversamente falliremo perché ci sarà sempre quella dualità tra i due centri che non ha senso di esistere non è immotivata ecco il paese è unico è bello viverlo noi abbiamo visto la serata di ieri sera che c'era la piazza piena stracolma di gente e questo è l'elemento positivo che noi tutti dobbiamo cogliere stasera ci sarà un'altra serata c'è la cover di Vasco Rossi io credo che ci sarà un'altra serata piena di gente dove si sta in compagnia si socializza gente di sopra e gente di sotto e questo deve essere lo spirito per creare quell'armonia tra i due centri che ci deve essere se vogliamo veramente portare Davoli a un livello superiore con il presidente di questo comitato Vincenzo Gualtieri il parco e il sindaco hanno ringraziato proprio tutto il comitato per il lavoro svolto in queste due giornate di festa e non solo anche per l'organizzazione della festa io a dir la verità sono contento della riuscita che abbiamo fatto visto le circostanze io non pensavo proprio di avere questa attenzione da tutto il popolo di Davoli anche perché ci sono state delle polemiche in altre circostanze che noi non vogliamo toccare quindi io ringrazio tutti i componenti del comitato dal primo all'ultimo il merito non è mio ma è di tutti quanti speriamo che in avvenire riusciranno nello stesso modo da oggi in avanti ci ripromettiamo di impegnarci ancora di più per riuscire nelle manifestazioni che si ricorda Davoli che speriamo di farle risollevare di nuovo perché erano spariti dalla circolazione proprio definitivamente sì positivo noi ribadisco abbiamo stiamo lavorando per soprattutto per il sociale cercare di unire diciamo forze cercare di fare le feste che purtroppo anche per una crisi economica ditemi voi si stavano un po' perdendo diciamo nel nostro paese con l'occasione ringraziamo tutti i cittadini di Davoli della frazione Marina alla Davoli Capoluogo per il loro contributo e ci hanno aiutato tantissimo a realizzare questa festa come noi sicuramente vorremmo fare ancora in seguito con le altre feste che vengono poi c'è quella della Marina poi c'è a settembre la festa della Madonna e daremo una mano come tutti ci danno una mano a noi anche noi daremo il nostro contributo come Comitato Festa San Vittorio e Misericordia bene tutto per oggi grazie per averci seguito arrivederci grazie per aver guardato